Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con Dirt Rally 2.0 riprendiamo da dove ci siamo lasciati eravamo in Polonia a distruggere la nostra 131 Abarth andiamo allora a riparare il veicolo allora possiamo riparare tutto riusciamo a riparare tutto pare di sì pare di sì grande grande così confermiamo le riparazioni perfetto tutto a posto abbiamo moneta un po ce l'abbiamo pneumatici abbiamo ancora quelli morbidi sì ah usate ok ecco sta cosa però le altre volte non me non ci avevo fatto caso io onestamente raga pensavo le cambiasse set pneumatici di ricambio rimanenti due quante tappe sono in totale sei quindi se io faccio così metto le morbide nuove ne rimane uno se rimetto queste rimane vabbè usiamo queste nuove dovrebbero bastare due quattro sei so sei le tappe oso otto e chissò ricorda boh vabbè comunque proviamo signori proviamo è un po' di un po' notte un po' notte 6 destra in 6 sinistra su crinale molto lunga 60 va bene eh ce ne vorrà tanta di fortuna pronti dai pronti 4 3 2 1 via rinale piatto 50 6 destra in 6 sinistra su crinale molto lunga vai di prepotenza eh 60 tieni la destra su crinale attenzione rallenta tieni la destra su 50 1 sinistra non vista aspetta 1 sinistra prepariamoci alla 1 sinistra rinale piatto 50 che sono sempre pericolose tieni la sinistra sul salto e tieni la destra in attenzione 6 sinistra su lunga su salto stringe 4 eh vabbè ne ha altre due indicazioni no? non ho capito niente 1 destra lunga apre sul crinale 80 6 sinistra su crinale molto lunga stretta 4 destra lunga apre sul crinale 60 6 destra tieni la sinistra su 80 attenzione crinale 3 sinistra lunga 80 6 destra lunga apre sul crinale salto 30 sti curboni dopo i crinale sono criminali 5 sinistra molto molto lunga su crinale 30 5 destra lunga apre sul crinale in piatto sinistra su crinale 60 5 sinistra sul salto crinale e 6 destra lunga apre sul crinale in 6 sinistra molto lunga stringe 5 30 4 destra sul crinale stretto 70 5 sinistra chiude stretto e 6 sinistra sul salto occhio in 5 destra lunga stringe 3 non tagliare asfalto attenzione 30 chicane 1 entrata destra 2 sinistra 50 5 destra caputana lo sapevo io 30 in 4 a sinistra spinge chiaia in 5 destra sti cazzo di barilotti di paglia maledetti faccia la troia mi hanno preso a spallate su crinale lunga 50 crinale e 5 sinistra e 6 destra in 6 sinistra lunga stringe tieni il centro su 150 6 destra molto lunga apre tieni la destra sul grande salto qual'è il grande salto? questo? si 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 bella un po' di rischio rischi del mestiere signore tieni il centro su crinale con salto 50 5 sinistra lunga stringe 3 in 5 destra su crinale 30 6 sinistra su salto sto lasciando questa visuale che mi trova un pochino meglio signori so che tieni il centro su salto in 4 sinistra stringe su pallamento però vedete che ci sono un po' di difficoltà quindi cerchiamo di un livello di visuale per pianizzarci un pochino meglio 6 destra tieni la destra su 70 fino a 5 sinistra 70 crinale piatto in 6 sinistra 6 destra sul salto 50 6 sinistra sul salto tieni la destra su 50 6 sinistra su crinale in 5 destra su crinale verso crinale e 6 sinistra apre tieni il centro su crinale con salto verso grande salto in 6 sinistra 50 6 destra 50 piatto salto e salto 50 6 destra trazione a palla qua verso rallenta asfalto 50 1 sinistra apre non tagliare lunga 160 non tagliare 2 destra ci faceva con calma 50 occhio al covone occhio al covone non tagliare 1 destra attorno al covone in svolta non tagliare 1 sinistra selciato scivoloso e tornante a sinistra non tagliare tagliato 23 secondi signori allora c'è anche da dire una cosa io questo episodio lo sto registrando di seguito all'altro quindi c'è anche forse un pochino di più di allenamento non lo so magari è solo culo però io di solito cerco di registrare qualche video di seguito quindi il primo che registro dopo un bel po' di tempo si vede che guido di merda era lo scorso questo forse un po' meglio non lo so vediamo se ci schiantiamo famo che famo niente come non detto comunque prossima tappa prossima tappa magari c'è andata semplicemente di culo tutto è possibile comunque comunque sempre in Polonia quarta tappa 16 km bene così che è la stessa di prima solo che la facciamo al contrario se non sbaglio se non sbaglio pioggia forte bene applausi per la pioggia forte e niente basta che non è pure di notte se no ciao cari ciao cari eeeh vaffanculo ma che cazzo di notte pioggia forte buona fortuna 16 km notturna sotto la pioggia ma si cosa potrà mai succedere portaci bosta 5 4 3 2 1 via piatto sinistra 50 6 destra su crinale non tagliare 6 sinistra 50 piatto al centro su crinale però cazzo andiamo a fiducia non vedo di cazzo eh ciao mare signori non so voi 120 qua dobbiamo andare a fiducia in 5 sinistra lunga stretto su dosso in 6 destra 80 oh cazzo oh cazzo oh cazzo eh vabbè ma come cazzo fai a fare 16 km non è successo niente dunque qua su crinale in 6 sinistra stringe dopo l'incrocio 30 cioè puoi anche seguire le indicazioni ma vi state vedete se no non tagliare 5 sinistra apre lunga in 6 sinistra 30 4 destra lunga stringe su crinale 50 da non tagliare 4 sinistra in 6 destra in 6 sinistra lunga 30 6 destra bene ci abbiamo perso 7 secondi molto lunga in rallenta 6 sinistra lunga su dosso probabilmente gli altri vedranno qualcosa 3 destra su crinale dosso in 4 sinistra lunga dove si va 1 destra apre lunga asfalto a piacere non tagliare attraverso i covoni tieni la destra su 30 1 destra apre su crinale ghiaia 50 5 sinistra impietto destra su crinale apre lunga stringe su salto sto andando molto a caso eh signore veramente molto a caso 4 destra molto lunga apre piatto su crinale in 6 sinistra occhio e qua sto molto focalizzato su denote ma sto anche cercando di vedere tracciato che non si vede non si vede niente ma dobbiamo solo limitare i danni questi 16 chilometri ma 17 chilometri su crinale su crinale eh stretto 6 sinistra su crinale molto molto lunga sul crocio 30 tutta la buona volontà tieni il centro su salto in 3 sinistra lunga stringe 80 piatto destra su crinale molto lunga 30 3 destra lunga apre proprio 0 5 sinistra su crinale non so come risulti in video la cosa ma che già di notte non si vede una cippa ma poi c'è sta pioggia sta cazzo di pioggia che ti fa sto muro bianco davanti 120 oh cazzo crinale 5 sinistra stringe 4 destra lunga su incrocio al centro 6 sinistra molto molto lunga 170 ma li aprivedono scusate tanto per sapere eh non vista questo è poco ma sicuro occhio eh che cazzo ma non è vero non avevo preso quell'uomo maledizione di puttana beh un altro 3-4 secondi ormai 4 sinistra non so qual era un eventuale vantaggio che avevano iniziare ma 2 sinistra attorno covoni selciato in non tagliare in non tagliare 3 sinistra 3 sinistra in 1 destra stringe selciato attorno comune non lo so ma dove cazzo si va non tagliare 2 sinistra non lo so signori io un po' mi sono perso andiamo giusti 40 2 sinistra torno copone asfalto tieni la sinistra sul 160 questo è essere pd di puttana però in amicizia non vista non tagliare destra lunga stringe 2 30 piatto sinistra lunga 30 6 sinistra lunga e niente abbiamo pure 4 secondi di penalità con le figurazioni 6 sinistra lunga 50 e 6 destra lunga apre su salto verso crinale lungo e piatto 6 destra apre su salto 6 sinistra stringe su crinale 6 destra su crinale stai agendo su crinale e piatto destra 100 e gira cazzo tieni la sinistra su salto 50 quale sa non vedo niente troppo sinistra sul salto 60 tieni la sinistra su crinale 30 5 destra lunga apre su crinale 6 sinistra lunga attenzione stringe 3 su crinale stringe indosso salto in 4 destra 50 rischi rischi 80 80 6 6 destra su crinale dossi 6 sinistra su crinale rallenta 30 4 destra lunga 120 olè 10 su crinale 6 piatto destra su crinale 4 sinistra 4 sinistra 5 sinistra lunga stringe su crinale tiene tiene il centro su 170 ci stiamo a fidare ci stiamo a fidare 50 crinale piatto in 6 sinistra lunga su crinale in 6 destra apre su crinale in 6 sinistra lunga su crinale 100 4 destra in 5 sinistra 2 destra stringe asfalto occhio attenzione 100 chicane 1 entrata destra 1 sinistra attenzione chicane attenzione non gira eh forse bagnato 3 sinistra lunga lunga apre eh no mi sa che sono andato al bloccaggio degli pneumatici eh mi sa che ho fatto la stronzata io ho frenato troppo di prepotenza però giustamente non avendo gli aiuti in ABS e niente è stato infroci cazzo avevamo recuperato anche un pochino crinale lunga 5 destra lunga su crinale e 6 destra peccato 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 6 sinistra lunga attenzione 30 6 destra stringe su salto 30 piatto destra su crinale lungo no no non morite luci per piacere rallenta 80 volta 3 destra su crinale se si spaccano le luci apposto e c'è un mare 6 sinistra apre 80 4 sinistra stringe 3 in 6 destra lunga su crinale attenzione rallenta 50 crinale in 2 sinistra stringe 4 destra lunga su crinale 50 gira cazzo eh papà tieni il centro su salto 120 svolta non vista 3 destra stringe apre su piatto asfalto 6 sinistra su crinale lunga apre 80 5 destra su avvallamento su arrivo in 6 sinistra allo stop oh arriviamo per piacere arriviamo e che cazzo 26 secondi oddio l'ultima parte l'abbiamo fatta pure sportiveggiante 26 secondi tutto sommato ci sta ci sta parcheggia ferma tutto spegni ben fatto eh più o meno allora allora vediamo un attimino in totale come siamo messi ancora primi ancora primi grande così grande così andiamo avanti e allora aspetta vabbè mo ci salutiamo non so se ci sono altre due tappe qui in polonio l'abbiamo finito forse si ci sono altre due tappe però sto cercando di fare video su una ventina di minuti quindi le tappe in totale sono 6 sta facendo una corta e una lunga va bene va bene allora noi ragazzi ci vediamo con il prossimo appuntamento con dearthrally 2.0 cercheremo di portare a termine questo campionato con onore mi raccomando voi come sempre lasciate like condividete seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione ci vediamo al prossimo episodio un saluto a tutti da quel taleale un saluto a tutti